Nella finale del beach volley gli italiani Paolo Nicolai e Daniele Lupo sono stati sconfitti 2-0 dei brasiliani Alison Cerruti e Bruno Oscar Schmidt, ma la medaglia d'argento al torneo olimpico di Rio è storica per la coppia azzurra. K.O. ma con onore anche per il settebello battuto dai serbi campioni del mondo per 8 a 10. Gli azzurri della pallanuoto combatteranno per la medaglia di bronzo con il Montenegro. Occhi puntati stasera sulla finale di pallanuoto femminile con il sette rosa che affronta gli Stati Uniti. Sfida che si ripete anche nella semifinale di volley maschile. Intanto Usain Bolt conferma ancora una volta la sua leggenda. Il giamaicano ha vinto il suo secondo oro ai giochi di Rio correndo i 200 metri in 19,78.